Sì, grazie Assessore di essere qua per le risposte intanto. Anch'io chiedo copia a Cartaccia, gentilmente, se posso averle delle risposte. Ricordo che questa interrogazione era stata protocollata il 23 luglio e quindi ne discutiamo oggi perché è solo oggi e si è reso disponibile l'Assessore a rispondere. Sono parzialmente soddisfatto delle risposte. Uno riguarda il secondo punto, se corrisponde al vero che i nuovi irari siano stati resi pubblici solo il 24 luglio. Mi bastava una risposta intanto semplice e poi argomentando sì o no. Mi fa piacere perché c'è una continuità anche di attenzione perché già un anno fa rilevo, era ben chiaro l'aggiunta, che questa era la linea tra le più problematiche della Toscana. E non è un caso che rientri in una di quelle province di crisi complessa. Noi abbiamo fatto partire la Commissione d'inchiesta con un focus sulla costa, ma ricordo che quando i dati, gli indicatori economici parlano di Livorno, Massaccarrare, Piombino, si fa riferimento a tutto l'intero territorio della provincia e c'è uno stretto collegamento tra alcuni deficit di infrastrutture e delle ripercussioni economiche nel territorio. Se non vanno i collegamenti i territori si spoporano, i turisti non ci vanno. E quindi mi fa piacere che sia al centro dell'agenda politica, ma dopo un anno e mezzo si è ripresentato il problema. Sono stati spesi 10 milioni di euro, benissimo. A luglio abbiamo avuto questo problema, monitoreremo che rientri nei parametri internazionali di quegli servizi che un buona infrastruttura sicuramente ugualmente ha. L'esigenza di scrivere insieme ai comitati dei pendolari, ai cittadini, il contratto di servizio è centrale, perché loro hanno il polso quotidiano dell'andamento o buon funzionamento o cattivo funzionamento del servizio. Io stesso a luglio, facendo il pendolare, ho provato sulla mia pelle che cosa significasse vivere in una regione dove il servizio dei treni e in generale il trasporto pubblico e locale non funziona. La ringrazio di essere qua, spero che si apra un'attenta, insomma, con impegno a arrivare alla risoluzione dei problemi e sicuramente servono delle ispezioni e delle presenze sul territorio anche in quelli più remonti.